E' iniziata da pochi giorni a Frosinone la seconda edizione del corso di erboristeria e fitoterapia. 12 lezioni dedicate alla storia delle piante, alla cosmesi, alle tisane terapeutiche, ma anche all'omeopatia e dalla gemmoterapia, per finire con la cucina con erbe selvatiche e spezie. Nasce come una derivazione dal corso famoso che si tiene a Collepardo, ormai da 29 anni, il famoso corso introduttivo a riconoscimento d'uso delle piante officinali. Che ha sempre un suo fascino, un suo successo, siccome una cittadina come Frosinone ha donato a quel corso moltissimi partecipanti negli anni, abbiamo deciso nel periodo invernale di farlo anche qui a Frosinone. Dobbiamo dire che abbiamo avuto un discreto successo già dall'anno scorso con molti partecipanti e anche quest'anno si è ripetuta questa grande affluenza. Il corso è strutturato, quindi partire da oggi finirà a marzo. Saranno delle lezioni settimanali che vengono dalle 20 e 30 alle 22 e 30, presso qui la sede della Chiesa del Sacro Cuore e due lezioni verranno fatte invece presso l'Adi Terme di Ferentino. Quest'anno ripetiamo il corso per la seconda edizione, nello specifico la mia azienda oltre a fornire piante fresche e laboratori produce anche delle tisane, quindi noi durante il corso faremo delle lezioni proprio specifiche in quella che è la formulazione e la preparazione delle tisane. Faremo anche un corso pratico in cui praticamente insieme agli studenti faremo proprio delle prove di formulazione, ovvero porteremo qui le erbe siccate, le misceliamo insieme, faremo la formulazione insieme e poi prepareremo la tisana da bere insieme, in modo che le persone o la casalinga che si trova a casa a preparare i tisani diciamo in quel modo sono più consapevole di cosa stanno utilizzando e di qual è il modo più corretto per utilizzare quel tipo di prodotto. Il mio ruolo in questo corso diciamo sono la parte botanica, io diciamo per professione studio le piante in natura, soprattutto le fotografo, sono un fotografo botanico, il mio campo d'indagine praticamente tutto il Lazio è, quindi tutte le piante spontanee all'interno del Lazio sono di mio interesse e oggi ho fatto la lezione introduttiva appunto a questo corso parlando un po' della storia delle piante, come sono evolute sulla terra, i tipi di piante che attualmente esistono, il tipo di impollinazione e oltre questo mio impegno per questa prima lezione di questo mio incontro non ci sarà ulteriormente a fine corso un'escursione in una località che si chiama Fosso di Monte Acuto, una valle bellissima che sta dietro Monte Ciacumi nel comune di Giuliano di Roma e quindi sarà l'escursione finale credo nel periodo migliore che dovrebbe essere maggio.